Ah, c'è chi si parlese, c'è chi è venuto, beh, non lo so, però lo penso oggi. Non è così, però lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. E appiccato e tutto per perdere, perché è pienso, ma dicevo, beh, che 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 la cassa, e che c'è chi ho avuto parteciata che a tutti i nostri amici, e con il mio lavoro, e per me lo stesso, Buongiorno a tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori.